Facciamo un passo indietro, quando è arrivata la proposta del Verona, cosa hai pensato? Sono stato felicissimo, c'è stata un'emozione grande, poi comunque sempre con mio padre che me ne ha parlato sotto tutti gli aspetti benissimo, e quindi arrivare in questa società è stata una grande soddisfazione per me, e ora cercherò in tutti i modi di non staccarmi da qua. Benvenuto all'Ellas Verona, cosa ti ha detto Aladino Valotti, tuo padre della città di Verona? Grazie per il benvenuto, le cose che mi ha detto papà sono tante, sono qui a elencarle tutte, perderei troppo tempo. Comunque mi ha detto che è una società che a lui in carriera ha dato veramente tanto, diciamo che è una in cui si è trovato meglio di tutte, e ne ha girate parecchie. Mi ha parlato benissimo dalla società, che comunque era diversa, a tutto il tifo che gira attorno a Verona, me ne ha parlato assolutamente che bene. Tu all'Albino Leff hai giocato come trequartista e anche al Milan Allegri ti vedeva come trequartista, ma hai giocato anche come mezzale, però sempre in fase offensiva. Mandolini ti ha schierato ancora come trequartista, io l'hai chiesto tu o è stato lui a volerti provare in questo ruolo? No, sì, io sono, gli ultimi anni della carriera li ho fatti più o meno tutti da trequartista, sia quando sono approdato al Milan con Allegri e subito pronti via, lui mi ha visto come un giocatore che potesse giocare dietro le punte. L'anno scorso l'Albino Leff è la stessa cosa e quest'anno il mister Mandolini inizialmente mi ha messo come mezzala nei primi allenamenti e poi dagli ultimi due o tre allenamenti prima della partita contro il San Giorgio mi ha schierato dietro le punte, quindi è stata una sua scelta. Partita contro il San Giorgio condita da un gol, insomma era un amichevole, però per un giocatore è sempre importante segnare. Cosa ti aspetti da questo Verona? Sì, vabbè sono stato contento del gol anche se comunque in una partita amichevole, è stata un'emozione comunque enorme disputare la prima partita con questa maglietta e niente ora spero di poter dimostrare il mio valore nelle prossime partite. Hai giocato, sei stato compagno di squadra perché tu al Milan hai aggregato praticamente tutta l'ultima stagione alla prima squadra, sei stato compagno di Filippo Inzachi, che effetto ti fa adesso vedere che è l'allenatore del Milan? Sì, io il primo anno che ero arrivato al Milan era lui il mio compagno di squadra, giocava con me e è stata una gran persona che mi ha aiutato anche lui molto nel mio progetto di crescita. Era uno che si vedeva già subito, che amava il calcio in tutto e per tutto, era uno che passava veramente la giornata a Milanello e poi piaceva tutto, dalla Serie A alla Serie C, conosceva tutti i giocatori. A me è servito molto perché mi ha dato parecchi consigli e quindi non mi stupisce vederlo adesso come allenatore della prima squadra. Cambia tanto passare dal campionato primavera a una prima squadra? Insomma tu stai finendo forse questo processo. È un salto così importante come sembra? Sì, sì, senza dubbio. Anche solo il ritiro prima di una stagione è totalmente un'altra cosa. Io ho avuto la fortuna di farne due in una società importante e quindi sotto questo aspetto sono stato anche avvantaggiato. Però ho ancora tanto da migliorare, da crescere a livello fisico, a livello caratteriale e credo che questa sia la società migliore di cui poterlo fare. Cosa ti aspetti da questa tua stagione a Verona? Quali sono i tuoi propositi? Giocare, farti vedere, insomma avrai degli obiettivi? Sì, sì, senza dubbio. Io sono arrivato qua diciamo tra virgolette da sconosciuto perché comunque ancora non ho dimostrato niente. Quindi devo assolutamente dimostrare all'allenatore delle mie qualità e quest'anno mi servirà soprattutto a quello. Poi star qui a dire voglio giocare di partite non è il caso. Però il mio augurio per questa stagione è di mettere in difficoltà l'allenatore. L'altro giorno vedevo Mandorlini che a fine allenamento ti ha spiegato proprio un gesto tecnico, mi pare un anticipo, mi pare di aver capito qualcosa del genere. Ti aveva anticipato qualcuno. Com'è il rapporto con il mister? Ma il mister mi sta aiutando parecchio, mi dà i consigli anche dopo gli allenamenti e durante. Quindi per adesso è un rapporto che sta andando bene. È un allenatore che anche con i giovani si vede che ne ha avuto a che fare parecchio. Ecco, credo che la conferenza stampa di presentazione di tuo padre fu esattamente vent'anni fa, se non sbaglio. Ti ha dato qualche consiglio anche come comunicazione nel senso nel come rapportarsi all'ambiente Verona? No, quello no. Vent'anni fa magari no, però 18 sì. 18 anni fa c'è stata la sua conferenza stampa qua. No, sotto l'aspetto del rapporto così non mi ha detto niente. Mi ha detto solo di viverla al 100% questa emozione come lui ha sempre fatto. Il suo ricordo qua di tutti i tifosi è comunque di una persona che ha dato tutto per questa maglia. Quindi cercherò anch'io di fare altrettanto. Chi è stato il compagno che ti ha stupito di più quando sei arrivato e magari quello con cui hai legato di più? Ma che mi ha stupito di più come giocatore a livello tecnico? Vabbè, dire Tony non è troppo facile. Perché comunque alla sua età, comunque a 35 anni, fare quello che sta facendo con la voglia che lo sta facendo, anche alle corse che facciamo la mattina, che non molla mai un metro, che vuole farle sempre tutte, è veramente da fargli i complimenti. E poi tutti gli altri, comunque è un gruppo giovane, è un gruppo che ha voglia di crescere, è un gruppo che ti aiuta e quindi mi sto trovando veramente bene. Colmina mi pare tu avessi il 57 come numero. Hai un numero preferito che vuoi indossare? Ma a me piace il 27. Non ho motivo, però mi piace questo numero. Il 57 al Milan me l'avevano dato così loro, perché i giovani di solito dal 50 al 60 vanno, quindi mi avevano dato il 57 e avevo tenuto quello lì. E ora qua, se c'è la disposizione, prenderò il 27.